L'inchiesta della direzione del settore antimafia di Catanzaro sulla gestione dei centri di accoglienza accende riflettori sull'ampedusa e tira in ballo anche il ministro degli esteri, l'agrigentino Angelino Alfano, per la nomina di un parente. Uno dei personaggi chiave del bliz, chiamato Johnny, che ha portato al fermo di 68 persone, tra cui il governatore della Fraternita di Misericordia, Leonardo Sacco, aveva indicato un parente acquisito del ministro Alfano, che all'epoca dei fatti era il titolare della delega all'interno per la direzione del centro di accoglienza dell'isola di Lampedusa. Il nome proposto era quello di Lorenzo Montana, suocero del fratello minore di Alfano. Siamo a dicembre del 2013, quando vengono diffuse le immagini della doccia antiscabbia con gli idranti a cui venivano sottoposti i migranti ospitati nel centro di Lampedusa. All'epoca la direzione del centro era appannaggio della cooperativa Lampedusa Accoglienza. Subito dopo la gestione era stata revocata alla Copp Lampedusana e affidata dalla Prefettura di Agrigento alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, indicato come direttore del centro proprio Montana, suocero di Alessandro Alfano, fratello minore del ministro Angelino. Non sono stato indicato da Alfano, sono stato scelto per le mie qualità personali, umane e professionali intellettive, si era difeso Montana, ma nonostante avesse iniziato a frequentare il centro non è mai stato nominato. Lorenzo Montana, fanno sapere dalla Confederazione delle Misericordie, non ha un ruolo direttivo nell'ambito del centro di accoglienza di Lampedusa, anche perché non ha i requisiti. A Montana, spiegano dalle Misericordie, sulla base del suo curriculum e delle sue esperienze, sono stati affidati compiti di coordinamento dei servizi amministrativi, il centro attualmente gestito dalla Croce Rossa, che ha vinto una gara per il 51% della gestione, mentre il 49% resta alla Misericordia.